Sul recupero del contributo di autonoma sistemazione, il cosiddetto CAS, dato agli aquilani nell'immediato post-sisma e messo in atto dal Comune per recuperare le somme, arrivano le prime sentenze del giudice di pace che stoppano questa azione, dopo i ricorsi di molti cittadini che non dovranno ora restituire le somme. L'asso servizi per conto del Comune stava recuperando le somme a circa 600 cittadini, oltre alle 6.000 persone già individuate l'anno scorso. L'opposizione in Comune, anche in questo caso, non le manda a dire sentenze che danno ragione a ciò che loro predicavano da tempo, cioè che non si può chiedere dopo dieci anni la restituzione perché prescritta, prescrizione che dunque vale anche per il Comune e che non tiene conto del giorno in cui le somme sono state erogate e non in quello dell'accertamento. Per questo, per l'opposizione, si configurerebbe anche un danno erariale per l'amministrazione che non ha recuperato le somme quando doveva e, incalzata dalla Corte dei Conti, ha messo in atto questo recupero? Impossibile, dicono. Era semplicemente una constatazione di quello che stabilisce la legge, in questo caso come in tanti altri casi. La settimana scorsa è stata una settimana disastrosa per l'amministrazione comunale che ha collezionato una serie di clamorose strigliate d'orecchie da parte delle altre istituzioni, così per quanto riguarda il CAS, a questo punto con evidente responsabilità reale da parte dell'amministrazione comunale di cui dovrà rispondere, così come è successo sulla questione del comando di Polizia Municipale. Anche lì avevamo ammonito l'amministrazione comunale del non rispetto della legge e tanto da addirittura mettere il TAR nelle condizioni di dover minacciare la nomina del prefetto come è commissario per l'attuazione della sentenza. Insomma ci sono veramente una serie di questioni di nodi che stanno venendo al pettine che fanno da cornice a una concludenza di un'amministrazione che pensa di essere al di sopra della legge e che opera in tal senso ma che evidentemente adesso comincia a fare i conti con la realtà.